e buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video che spero possa diventare il primo di una lunga serie per chi ci segue su instagram e ha visto le stelle della settimana scorsa saprà già che di recente mi sono dedicato a tutta quella sezione del cosplay se così vogliamo chiamarlo che si dedica alla riproduzione di armi e in generale oggetti tratti dai nostri videogiochi, film o serie preferite vi ho quindi proposto dei video del genere cercando di ottenerci all'ambito destiny ed eccoci quindi in questo primo episodio in cui andremo a creare un coltello da cacciatore in questo video quindi vi mostrerò il processo con il quale ho replicato il coltello cercando anche di darvi magari qualche consiglio a riguardo prima di iniziare però ci tengo a precisare che al momento non ho ancora provato a riprodurre armi da fuoco quindi nel frattempo vi chiedo quale arma non da fuoco quindi potrebbe essere un martello per il titano, una qualunque spada all'interno del gioco mi piacerebbe vedere realizzata magari vi lascio un sondaggino con qualche opzione detto questo iniziamo la prima cosa che faccio quando voglio iniziare un nuovo progetto è quella di creare un modello schematico dell'arma in questione cercando quindi una foto da cui possa partire con penne photoshop cerco di tratteggiare le linee più importanti dell'arma in questo caso sono stato fortunato e ho trovato un modello già bello e pronto ma rimane una questione fondamentale quella delle dimensioni osservando il coltello in game ho quindi cercato di ricavare le dimensioni approssimative per definire una lunghezza di circa 35 cm a questo punto mi è bastato inserire il modello in un foglio A4 e scalarlo fino alle dimensioni che mi servivano così facendo il coltello occuperà solamente due foglie tuttavia fate attenzione a non fare il mio stesso errore e cercate di dividere due pezzi in un punto a voi comodo il fatto che avessi diviso la punta laterale non è andato esattamente a mio vantaggio anche se sono riuscito a rimediare facilmente con un pezzetto di scotch fatto ciò tagliamo il nostro modello e uniamo i pezzi per creare una traccia unica iniziamo quindi ora con la lavorazione vera e propria per quanto riguarda il materiale utilizzato personalmente mi trovo molto bene a lavorare con il polistirene estruso e nonostante quello che possa far pensare il nome è un semplicissimo materiale isolante venduto a pannelli a costo veramente molto basso come ho detto è un materiale facile da lavorare e leggero da maneggiare tuttavia non è particolarmente elastico e se volete quindi utilizzare l'arma per esempio in un combattimento seppur simulato rischiate di romperla come ho fatto io con la minaccia di kathos consiglio quindi di tenere gli oggetti lavorati in questo materiale semplicemente in esposizione ma torniamo a noi per iniziare ad avere una forma di partenza tratteggio il contorno del mio modello sul pannello e lo taglio con un seghetto elettrico se non ne avete uno non c'è problema potete utilizzare un semplice taglierino o una sega ovviamente con un po' più di fatica abbiamo ora un blocco di partenza che però è un coltello un po' troppo spesso ho quindi diviso la forma in due tagliandola per lungo in modo da avere due sagome uguali è adesso il turno dei tre fori che percorrono il nostro coltello dopo aver tracciato la sagoma del modello di carta mi sono fatto aiutare dall'avvitatore e da una punta da legno per avere i miei fori avrete notato però che ho bucato solo la parte della lama lasciando solo dei segni per gli altri due buchi questo perché i fori sul manico lasceranno dei pezzi molto sottili e dovendo sagomare ancora alcuni punti ho preferito farli all'ultimo in modo da non rischiare di romper niente fatto ciò possiamo iniziare a lavorare sulla lama che dovrà essere ben più sottile del manico per assottigliarla mi sono quindi serviso di un taglierino e ho iniziato a raschiare i strati da entrambi i lati della lama vi consiglio di fare questo lavoro muovendo la lama verso l'esterno e non verso le vostre dita giusto per evitare di... riattaccato il dito e messo un bel cerotto si torna a lavoro vi ricordo che nell'assottigliare la lama bisognerà marcare particolarmente il filo lasciando più squadrato il lato che non taglia una volta quindi raggiunto lo spessore giusto munitevi di carta vetrata e iniziamo ad arrotondare le nostre forme in questa fase bisogna regolare le imprecisioni cercando di rendere la lama più dritta e simmetrica possibile eliminando i segni del taglierino inoltre dobbiamo lavorare bene sul filo in modo da farlo sembrare più affidato e stondare anche le forme del manico possiamo recuperare infine i due buchi che avevamo accionato prima mi raccomando attenti al gancio laterale che è un punto sempre molto fragile la forma del nostro coltello è ora pronta dedichiamoci quindi ai dettagli a questo punto dovremo smembrare il modello di carta quindi se volete conservarlo siate sicuri di aver fatto una copia o di aver conservato il file aiutandoci quindi con un taglierino seguiamo le linee del disegno in modo da avere una traccia su cui lavorare fatto ciò tuttavia il solco del taglierino sarà quasi impercettibile e dovremo marcarlo un po' io ho usato una punta da Dremel che per chi non lo sapesse è una sorta di puntina da trapano coperta di carta vetrata se però non avete uno strumento sismile potete facilmente ottenerne uno ricoprendo di carta vetrata la punta di una penna o una matita ora osserviamo i dettagli del coltello vediamo che questi sono di diversi tipi abbiamo le linee lungo la lama e lungo il manico che separano due aree di spessore diverso ci sono poi le tracce circolari attorno al buco e lungo la lama e infine abbiamo l'incisione centrale partendo proprio da questa marchiamo inizialmente i bordi in modo da definirne la forma e andiamo poi a scavare nella parte più interna volendo potete aiutarvi con un taglierino più piccolo per rimuovere il residuo all'interno dell'incisione state però attenti a non andare troppo in profondità sia per non bucare la lama e sia perché un'incisione troppo profonda ci creerebbe problemi nella pittura per quanto riguarda i tre cerchietti lungo la lama questi sono molto piccoli e la forma non andrà quindi accentuata più di tanto per evitare di creare crateri e mantenere l'effetto di un solco sul metallo il mio consiglio perciò è quello di smussare di poco la zona intorno al cerchio in modo da farlo sembrare più in rilievo la stessa cosa andrà fatta per il foro centrale per crearne il bordo io ho poi lavorato anche sull'interno del foro per ammorbidirne un po' l'angolo tocca adesso alle linee di margine lungo la lama e lungo il manico entrambe sono linee che divideranno due zone di spessore diverso e dovranno quindi essere particolarmente marcate in particolare quella sul manico che rispetto alla lama ha una forma più squadrata utilizzando quindi ancora una volta la punta della dremel ho tratteggiato la linea cercando di marcare la parte della lama in modo da sottigliarlo ulteriormente rispetto al manico prestando particolare attenzione nello stondare gli spigoli lo stesso concetto va applicato al filo della lama anche se in maniera meno accentuata dato che qui la linea serve maggiormente ad evidenziare l'affilatezza per concludere infine le incisioni di dettaglio ho smussato gli angoli dei fori sul manico stando sempre attento alla fragilità del pezzo riprodotti i dettagli anche sull'altro lato diamoci alla pittura prima di iniziare è importante sapere che alcune tempere su questo tipo di materiale sono corrosive quindi prima di rischiare di sciogliere definitivamente il nostro coltello fate una prova su un pezzo di scarto se può esservi d'aiuto io ho usato gli acrilici giotto ed è stato subito scuola materna ora per ottenere l'effetto metallo e far allo stesso tempo risaltare le incisioni ho dato due mani di vernice la prima di un colore scuro preferibilmente nero ma aveva un marrone molto scuro che mi sono fatto andare bene questa mano serve da sfondo alla pittura argentata è un modo da lasciarli intravedere in nero in alcuni punti è quindi importante che dipingiate per bene l'interno delle incisioni in questo modo passando una seconda mano abbastanza approssimativa di argento ovviamente una volta che la base si sarà asciugata se non volete un coltello grigio topo i solchi delle incisioni rimarranno scuri e darete alla lama una texture similmetallica se per caso l'argento avesse ricoperto qualche solco vi basterà passare delicatamente con un taglierino o un punteruolo per far vedere il nero infine per dare lucentezza alla lama ho passato uno stato di colla vinilica che ha anche rinforzato il tutto la pittura è terminata e per completare il nostro fantastico coltello da cacciatore ci basterà solo un lacetto di cuoio o stoffa preferibilmente nero abbolgiamolo attorno al manico facendolo passare attraverso i buchi sempre facendo attenzione a non rompere niente e fissandolo con un goccio di colla e il gioco è fatto ok ragazzi quindi questo era il video sul coltello da cacciatore questo è il coltello io sono veramente soddisfatto del risultato mi piace parecchio e l'unico problema che mi da è che non saprei bene come esporlo nel senso che potrei appenderlo però è piccolino sul muro non so quanto ci sia bene e a questo proposito voglio proporvi una cosa mi piacerebbe se magari nel prossimo episodio o in uno dei prossimi episodi costruissimo una base appunto per questo coltello che ho già in mente fatemelo sapere nel sondaggino come ho già detto sto lavorando sulle armi da fuoco quindi siate un attimo clementi e al momento cerchiamo di concentrarci sulle spade rispondendo al sondaggio iniziale per farmi sapere quale spada volete ve lo ripropongo sempre qua detto questo io spero che questa nuova serie possa piacervi io vi invito a lasciare a like, commentare e condividere il video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao